Il cinema come passione personale e come professione Lo raccontano Francesco Rutelli, presidente dell'ANICA, l'associazione che raggruppa produttori e distributori Il cinema è qualcosa che, primo che non morirà mai E Loretta Goggi, con il suo ritorno al cinema con Glass Boy E' tornare a recitare che mi interessa Effetto Notte, venerdì 29 gennaio alle 23.10